Sta avendo un successo clamoroso la sezione classica del Festival delle Serre e oggi vogliamo anticipare quello che è uno spettacolo davvero atteso, che è Domenica, Le montagne che camminano, opera lirica per tutti. Partiamo da Sunda Morrone. Com'è nata l'idea di questo libretto, il testo di che hanno parlato e di cosa si tratta soprattutto? Sì, allora, il testo per il libretto d'opera nasce nel 2014. Da un incontro con il maestro Palermo, che aveva letto alcune cose, che avevo scritto per altre, diciamo, scritture interessanti, ma non pensate per la musica. In questo caso, invece, la mia passione per i libretti d'opera. Unita anche alla passione per la scrittura, hanno dato vita ad un testo che doveva comunque rappresentare un tema che c'era sempre molto vicino, ed era il tema ecologico, l'ambiente. La salvaguardia dell'ambiente è narrata attraverso le parole e è narrata poi attraverso invece la musica. L'idea era quella di costruire un testo per tutti che raccontasse agli adulti le difficoltà di sostenere, diciamo, anche l'ambiente naturale e però partire in maniera anche, come dire, anticipata dai bambini che potevano raccontarlo a loro volta a quelli più grandi di loro. Quindi ci serviva un personaggio che fosse accattivante per questi bambini e lo abbiamo trovato in un falco grillaio. Questo personaggio si erge a un certo punto, per problemi suoi, insomma, personali, a paladino della natura, perché si ritrova in un contesto dove qualcosa si sta verificando e vuole scoprire che cos'è che davvero succede. Le montagne sembrano camminare. Già le montagne che camminano evocano in realtà musica, perché la natura è fatta di suoni, è fatta di rumori, è fatta di movimenti. E quando Vincenzo Palermo ha letto il testo, dove c'era una parte di recitativo e una parte chiaramente anche di piccole aree d'opera, ha deciso di costruire questo splendido dono ad Eustacchio, così si chiama il falco grillaio, e ha scritto le musiche originali. Ecco Popò, come nascono allora queste musiche? Che tipo di musica aspettarsi da questo racconto, da questo testo che abbiamo appena ascoltato? In realtà questo lavoro in questo momento somiglia ancora un po' al musical, dove le parti recitate sono recitate da attori. Infatti noi avremo delle voci fuori campo. Mentre invece le aree d'opera, che sono vere e proprie liriche, che somigliano quasi di più a canzoni per bambini, anche se ce ne sono alcune che sono molto seriose, travestite però, sia con un linguaggio che con un approccio fanciullesco, ma in realtà sono di una profondità notevole. Non voglio andare volte perché non voglio togliere il gusto della sorpresa. Insomma, sono la poesia della nostra assunta racchiude, delle autentiche bomboniere. Per me il musicale è stato molto stimolante perché comunque si tratta di componimenti molto fluidi, dalla sonorità molto liquida nel verso. Quindi abbiamo questa sorta di aree d'opera, travestite da canzonette. La bravissima illustratrice, che ha curato anche i costumi, che è Iole Salvino, immagina questi personaggi metà animali e metà bambini. Per esempio, Eustachio è un bambino che però ha il becco. Ecco, questa simbiosi, questa metamorfosi, un altro poi tema centrale di quest'opera. Apparentemente il libretto sembrerebbe tenersi su toni anche abbastanza fanciulleschi. In realtà ha tutta una serie di significati reconditi che sono utili da scoprire e diretti ovviamente anche agli adulti.